Ciao a tutti, siamo qui in diretta dal campo con Diego Razzi per fare qualche domanda su questo secondo tempo. Allora, in generale, com'è andato il secondo tempo e anche la partita? Il secondo tempo è andato bene, è andato sulla linea giusta del primo. Siamo riusciti a prendere soltanto un gol e comunque a totalizzare quattro reti, quindi bene. Quali sono quindi i prossimi obiettivi per le partite future? Direi di prendere un po' meno contropiedi, visto che durante l'andamento della partita sono stati numerosi i contropiedi subiti. E qual è la tecnica che intendete adottare per evitare questi contropiedi? Correre un po' di più che forse ci manca. Quindi un po' di allenamento. D'accordo, allora in bocca al lupo. Grazie.